e cose terribili cari amici cose terribili una maestra alimentare no vax ora in terapia intensiva lei diceva che il virus non esiste lei diceva che il virus non esiste vedete l'articolo e ricente 17 settembre 2021 diceva i bambini che il covid non esiste adesso la maestra negazionista e no vax sabrina pattarello di 45 anni è intubata in terapia intensiva terribile cari amici una cosa terribile davvero terribile eppure è da tanto tempo che io serafino massoni vado dicendo che in italia persino i due potentissimi leader popolari matteo salvini e giorgia meloni si sono fatti vaccinare ed hanno green pass perché per avere il green pass basta farsi vaccinare chi si vaccina può ammalarsi ancora di covid ma non finisce in terapia intensiva e finiscono in terapia intensiva solo coloro che non sono vaccinati questo lo sapevano anche i potentissimi leader popolari matteo salvini e giorgia meloni e giorgia meloni che si sono fatti vaccinare ora hanno il green pass perché per avere il green pass basta farsi vaccinare e non ci sono problemi non ci sarebbero problemi in italia ma anche in tutto il mondo se tutti seguissero l'esempio dei due potentissimi leader popolari matteo salvini e giorgia meloni che si sono fatti vaccinare parola di serafino massoni che è uno dei più più uno dei più potenti opinionisti del web perché serafino massoni su youtube ha circa 11 milioni di visualizzazioni e queste sono le opere di serafino massoni e presto altre ne usciranno terribile terribile questa notizia questa bella maestra novax ora è intubata in terapia intensiva terribile la notizia è terribile hanno fatto tanto bene i due potentissimi leader popolari matteo salvini e giorgia meloni a farsi vaccinare così nessuno di loro due finirà in terapia intensiva ok cari amici a tutti tanti cari saluti da serafino massoni